E visto che siamo a Bologna abbiamo deciso di andare in un ristorante lucano Ci troviamo nella Trattoria delle Arbocchi Cucina lucana e siamo qui a cena È un posto molto carino, molto utimo con mio fratello Daniele E poi far vedere Daniele e fate vedere un attimo Che si è preso un'impepata di cozze E naturalmente con le manuare periodi sono www.germattic.com